ciao amico di facebook buon sabato anzi buon sabato da crana conosci crana è possibile è un fasto stupendo meraviglioso devi venirci anche perché crana ti ho già portato diverse volte perché perché qui ci sono le mie radici questo è il mio paese i nonni venivano da qua per conto ripetitando la foto della casa mentre i nonni a parte di mamma sono della bergamasca castione della presa umana un posto bellissimo anche quello il giorno che riuscirò ad andare però ecco io a crana praticamente ho le radici quindi non ci venivo da mesi avevo assolutamente bisogno di iniziare l'anno da qua e qua ti ho portato amico di facebook perché secondo me è un posto meraviglioso se non ci sei venuto ancora salito sali perché è una salita facilissima da borgo nuovo da prosto poi fai un anello oltretutto un caldo incredibile si sta bene ma è anche troppo fatto una sudata e oggi ti propongo una crana un po' diversa dal solito ecco perché ho cercato di riprenderla ad angolature diverse è bella già passando diciamo così nella parte bassa classica però sono salita un po' nel bosco dietro le case sono state diverse ristrutturazioni interessanti nel frattempo te le voglio mostrare e poi c'è il presepe ecco non è più realizzato in grande stile come le ultime volte è un po' in formato ridotto anti covid anche lui però è molto bello perché l'hanno posizionato nel vecchio torchio quindi sali fino al 6 gennaio trovi anche il presepe ma indipendentemente da quello guarda che crana merita anche perché è il mio paese ciao amico di facebook buon anno da crana buon tutto per un 2022 speriamo speriamo un pochino migliore dipende anche ovviamente da noi ciao amico di facebook baci da crana baci 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti